presentiamo il prossimo concorrente in gara lei è una concorrente in locale di Montemiletto signori Antonella Petrillo il mio canto libero Antonella Petrillo abbiamo fatto una sorpresa che abbiamo fatto cantare prima così non stavi indietro e adesso arriva il mio turno a scaldare le corde vocali Antonella Petrillo con il mio canto il leggio c'è il testo manca il testo grazie ecco facciamo un applauso ai tecnici e fonici grazie ecco qui io volevo anche un applauso scusatemi anche per la regia mobile che stanno facendo la ripresa dove c'è Peppe Bisogno che addirittura c'è la febbra a 39 quindi lo ringrazio per essere comunque stato un grande professionista vi lasciamo un applauso grazie allora vi lascio con Antonella Petrillo con il mio canto libero grazie a tutti 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 a tutti a tutti